Ciao, se stai cercando le sbobbinature di diritto privato al professore Piraino e studi scienze e turismo nella facoltà di economia all'università dei studi di Palermo, guarda attentamente questo video perché sto per mostrarti come scaricare le sbobbinature al professore Piraino direttamente da appunticondivisti.com che è il portale che vedi nel video, puoi accedere, puoi registrarti gratis cliccando sul link qui sotto, dopo che farai accesso e atterrerai su questa schermata qui, inserendo l'università dei studi di Palermo, facoltà di economia e le 15 scienze del turismo, materia di diritto privato Piraino, tipologia di fare le sbobbinature, cliccando sul bottone cerca, quello che otterrai sarà questo file qua, che sono le sbobbinature complete di diritto privato 164 pagine, è un file molto importante, è stato scaricato 8 volte, ti basterà cliccare su questa icona qua per scaricarlo, quindi mi raccomando registrati cliccando sul link qui sotto, se questo video ti è piaciuto clicca mi piace, condividi e se hai dubbi o domande lascia un commento qui sotto, ciao e ci vediamo al prossimo video.